Certe ragazze che vogliono partecipare ai concorsi di bellezza si dannano a pensare che cosa dire, come presentarsi. Ve la do io un'indicazione. Dicevo che per partecipare ai concorsi di bellezza ovviamente ci vuole un'immagine appropriata e poi bisogna stare molto attenti alle domande che fanno i giurati. Come ti chiami? Mi chiamo Valeria Dalla Palma. Come sei arrivata a questo concorso di bellezza? A dire la verità io non ho mai pensato né di essere bella né di partecipare a un concorso di bellezza. La cosa a cui tieni di più al mondo Valeria? Beh in un momento così difficile penso la pace, la pace nel mondo. Cosa vorresti per il tuo futuro? Vorrei vivere in campagna in una casa grande con un bel giardino, avere tanti bambini, sposarmi con una persona che amo e la pace nel mondo anche. Sì la pace nel mondo, sempre la pace nel mondo. L'ultimo libro che hai letto Valeria? Le ali delle farfalle di Capriska Tamarrov. Una scrittrice contemporanea? E' una scrittrice russa. Russa, sì. Esprimi un tuo desiderio ora, un tuo desiderio finale. Vorrei salutare, scusate, sono confusa, salutare la mia mamma e salutare anche, già che ci sono, la pace nel mondo. Se non siete così non partecipate, lasciate perdere, non fa per voi. Grazie a tutti.